Allora, istituto comprensivo Edoardo di Filippo qui a Colleverde, quindi qui Donio Montecelio, qui siamo ovviamente nello studio della professoressa Elisabetta Carmela Dedato, quindi la presa del dirigente e ovviamente una delegazione della presidenza dell'associazione Argos e delle forze di polizia continua il percorso delle buonazioni. Quindi adesso andiamo a leggere la motivazione del cuore d'oro che verrà ovviamente insignita la preside qui presente. Allora, la presidenza, sentito il comitato di verifica, ha firmato la seguente distinzione del merito, cuore d'oro, alla professoressa Elisabetta Carmela Dedato con la seguente motivazione. Esempio di altruismo diretto alla realizzazione di attività umanitarie e caritatevoli attraverso i valori della correttezza, la competenza e il rispetto, educare e aggregare, dimostrando in ogni occasione concrete, spiccate, vocazioni ai valori sociali. Per la commissione esaminatrice eccolo qui. Complimenti! Allora, io ringrazio l'associazione Argos di aver individuato la nostra scuola, siamo stati veramente molto contenti, soddisfatti, bambini, entusiasti. È stata una bella iniziativa di cui io ovviamente non conoscevo prima assolutamente e quindi ringraziamo veramente di cuore tutta la scuola, insomma, i bambini, io e anche il personale per questa iniziativa. Oggi abbiamo passato una bellissima giornata. Anche noi ringraziamo l'istituto, lei, signora Preside, che ci ha insomma accolto per dare anche continuità al nostro percorso delle buone azioni. Le facciamo tanti complimenti perché abbiamo trovato una scuola pulita, ordinata, soprattutto un corpo docente educatissimo, anche a livello molto professionale e bambini anche molto disciplinati. Questo vuol dire che l'istituto è molto attento a quelle che sono regole di condotta.